chiamiamo in posizione sul look chiamo anche il bottone deve essere in più già qua possiamo foldare però ancora qua lui può double barrellare per farci foldare i nostri assi x andiamo a fare 3x 6x 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 8x 8x è molto probabilmente usso il main event con luca che avrà da otg talento effettivo per farci per farci per farci per farci Let's go, me l'ero chiamato eh, avevo detto AS7 di cuore C'è un solo gol Ma C'è un solo gol Yeah, 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 yeah Vamos Grazie per il suicidio Finalmente L'asso Q, KQ Che vuole 154 euro, eccolo qua Good luck Non dovrebbe foldare molto spesso Il fatto che stia tankando è ovviamente ottimo E folda Ovviamente adesso mi pentoli era sciopato Vai raga, ora mi ero mutato nero al corrente Dello mutamento Badurino, fai qualcosa di stupido come hai fatto prima Ma ti prego Good luck E andiamo raga, ho detto una doppia coppia più bassa Questa era proprio una doppia coppia più bassa Zuppatulino Molto indecisa se chiamare Che sto a 150 euro Servi il 41% E con la taglia è tutto Secondo me possiamo andare Ma visto che non me la sento Faccio chiamare la mia mamma Vai, clic 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 Speriamo che non sia una coppia Ma che sia a sto K A sto Jack, perfetto Abbiamo il 40 4, 6, 7 4, 6, 7 Boom Yes Yes Le forbettiamo Speriamo di non beccarlo pieno Lui sicuramente è un buon giocatore aggressivo Può essere uno spot ok per tribettare Anche perché siamo stati abbastanza quieti Fino a... Non riesce a farci Va bene Va bene Perdiamo 22 bui su 75 che ne avevamo Ma secondo me moltissime volte Quindi fold Andiamo a 3 quadri Non lo abbia Ah, facciamo un check check da Arnor Per poter controllare Eh, cazzo madre Facciamo pure inventare qualcosa Arriva Average 4, 60 Che flop tecnico Ma viannei la roba dei 5 minuti Uff, marò 5 minuti del torneo Vabbè, abbiamo colore Non è che sia malvagio Però La aprirà monaz Adesso non più Però comunque Siamo messi molto bene Yes Siova bandirino Oh mio dio Vamos, iniziamo questa giornata Decentemente Anche se lui sciova Noi andiamo Cioè senza Assolutamente pensarci Due volte Qua lui può isolarsi Con Quasi ottenere le sue colpi Ok L'ha fatta Con 12 bui E ha foldato All in Adesso spero che chiami Good luck Mi piace l'attesa Ovviamente Bel kjack Qjack Passo 5 Vamos Al secondo tentativo Ce la facciamo Stata yetta 239 euro Bastava anche un asso Due suited Però Va bene così Buona fortuna Snap resciola Ok Good luck Quanti Dall'inizio Vamos Yes Da vinto al tar E stiamo di nuovo Sui 13 big blind E qua penso Che risciopo Sì Back to back Va bene Come on Come on raga Come on raga Che non abbiamo Fold equity Contro pimp My roll Non voglio dire La frase che mi porta Seiccio ogni volta Quindi semplicemente Porca puttanazza Quest'asso k Tecnicissimo Dai Un bel asso x Per pimp Non è che deve avere Un'altra coppia Basta Lo stico In flip Dai cazzo raga Clicca tu Va bene E niente Vi aggiorno raga Dai Ci sentiamo In questi giorni Su Instagram E grazie per essere state qua Tutte 4 e 50 Ciao belle Ciao belle Ciao belle Ciao belle Ciao belle Ciao belle Ciao belle